E non poteva mancare il 10 agosto la poesia dell'infanzia di chi ormai oggi ha i capelli bianchi. Proviamo a leggerla assieme. San Lorenzo Io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade perché si gran pianto nel concavo cevo sfavilla. Alcune cose tecniche. San Lorenzo è un apostrofe. Immagina Pascoli di rivolgersi al santo che dà il nome onomastico al 10 di agosto. Poi abbiamo, io lo so perché tanto di stelle è una costruzione tipicamente latina partitivo di stelle, tanto, tantum, eccetera con il genitivo che lo segue perché si gran pianto è una metafora e come dire, nel cielo scendono le stelle come un gran pianto soltanto che ricordo sempre che la metafora è una similitudine senza il come perciò abbiamo gran pianto subito senza necessariamente individuare i termini del confronto. Allora, io penso che già nella prima strofa noi abbiamo una rivelazione sul Pascoli questo lo so è rivelativo e ci dice, ci svela tutta la sua poetica io lo so, ecco, ho dimenticato di mettere io è una cosa importante io lo so, perché lo so? Perché sono poeta perché ho recuperato lo spirito del fanciullino io non mi limito a misurare i cedi a contare le stelle, a scrutare il tutto con il canocchiale io interpreto i segni e interpreto i segni perché mi rivesto di una nuova natura cerco di recuperare, evidentemente non potrà mai essere recuperata nella sua totalità io cerco di recuperare quella natura ingenua che ho perduto nel momento stesso in cui io ho perduto la mia fanciullezza allora, a San Lorenzo, al 10 agosto sappiamo che ci sono degli avvenimenti dei fatti astronomici e l'astronomo li potrà interpretare nella sua maniera Pascoli vede invece in questo fenomeno atmosferico un grande pianto chi è che piange? Piange il cielo perché si gran pianto nel concavo ceo sfavile e poi ce lo spiega ci spiega qual è la sua interpretazione e come al solito l'interpretazione procede in modo impressionistico abbiamo il primo protagonista che è una rondine di questa interpretazione la rondine che è espressione di nuovo della natura vediamo cosa succede ritornava una rondine al tetto l'uccisero cadde tra spini ella aveva nel becco un insetto la cena dei suoi rondinini dunque innanzitutto valutiamo come procede questa strofa imparatassi tutte proposizioni principali ritornava una rondine al tetto prima l'uccisero cadde aveva nel becco sottinteso qui c'è un ellissi del verbo era la cena dei suoi rondinini c'è un essere sottinteso quindi una serie di principali e di coordinate e poi si entra subito nell'immagine senza passaggi quindi ripeto movimento impressionistico che è pieno di simboli è pieno di metafore che rimandano cosa rimandano? ad esempio al tetto al tetto alla famiglia si nedo che è tetto no? cioè il tetto è una parte del tutto cioè la casa la casa a sua volta diventa la metafora della famiglia quindi la rondine ritornava dai suoi rondinini viene uccisa la drammaticità di questo evento in questa successione è espressa senza bisogno di particolari particolari attributi no? ma la successione tragica espressa da questa paratassi ci dice il dolore la sofferenza ad induzione che coinvolge l'atto l'atto scriteriato dell'omicidio è veramente un omicidio perché coinvolge in questo omicidio di questa rondine tutta una famiglia che era famiglia ai piccoli qui ritorna tutto mi pare che sia chiaro tutta l'esperienza del pascoli la morte del padre poi coinvolge tutta la famiglia ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano e il suo nido è nell'ombra che attende che pigola sempre più piano allora la rondine ormai per terra come in croce vediamo i simboli la croce la passione il dolore sono simboli cristiani che entrano molto frequentemente anche in queste poesie di poeti che non sono cristiani tende quel verme a quel cielo lontano si è voluto interpretare questo cielo lontano mi lascia molto interdetta questa interpretazione come cielo indifferente ma come si può pensare ad un cielo indifferente quando il cielo addirittura piange e il pianto del cielo lo troviamo sia nella prima strofa sia nella seconda che ritorna a circolo a riproporre lo stesso pensiero evidentemente dando l'interpretazione l'interpretazione che solo il poeta avrebbe potuto dare di questo fenomeno che altrimenti sarebbe semplicemente un fenomeno astronomico quindi non è cielo lontano nel senso di cielo indifferente ma un cielo che è lontano dalle brutture di questo mondo intanto il suo nido anche questa è una metonimia contenitore del posto de contenuto i rondinini si trova all'ombra e l'ombra è il segno della morte che attende che pigola sempre più piano qui si potrebbe anche vedere un anticlimax ombra attende pigola sempre più piano e qui inizia la similitudine una similitudine però che non si ha non è espressa col come ma attraverso delle immagini che si richiamano in modo analogico anche un uomo tornava al suo nido il nido è metafora della famiglia l'uccisero disse perdono ricordiamoci il pensiero della croce nella croce Cristo perdona i suoi carnefici così il padre immagina Pascoli che suo padre abbia perdonato al suo assassino e restò negli aperti occhi un grido portava due bambole in dono ancora lì analogia parallelismo anche lui viene ucciso c'era la cena per i rondinini qui ci sono delle bambole in dono per i suoi figli aperti occhi un grido una sinestesia gli occhi non possono gridare evidentemente ma possono solo vedere e poi di nuovo la paratassi guardate solo in questo verso tre predicati verbali l'uccisero disse perdono restò portava tornava ripeto questa successione in paratassi ci vuole svelare la tragedia di di questa di questa realtà che purtroppo non è la realtà solamente del pascoli ma è la realtà quotidiana che purtroppo dobbiamo constatare nella nella vita dell'uomo ora la nella casa rumita lo aspettano aspettano in vano egli immobile attonito addita le bambole al cielo lontano aspettano aspettano e una un'anadiplosi una ripetizione in successione evidentemente una anadiplosi perché si vuole pascoli vuole mettere in evidenza questa attesa questa stesa spasmodica che porterà poi nella tragedia alla famiglia e all'attesa si contrappone la sua immobilità la sua sorpresa e quell'atto di presentare al cielo visto che non l'ha potuta presentare ai propri figli le bambole al cielo che rimane lontano ma non perché indifferente ma perché non toccato dalla bruttura del nostro mondo e non si venga a dire che pascoli ha una visione utopica che è fuori dal tempo perché questa è la realtà quotidiana se uno vuole aprire i libri di storia e conoscere le catombe che gli uomini hanno fatto degli uomosimili nella storia tanto che la storia oggi non si vuole più conoscere perché non si vuole conoscere la natura la vera reale natura dell'uomo ed ecco di nuovo un apostrofe e tu cielo dall'alto dei mondi sereni infinito immortale ah no scusate c'era ancora una cosa che devo dire qui e gli immobile attonito addita le bambole questo è una jambemant ricordatevi sempre il ruolo della jambemant come per i puntini come i punti fermi lungo nel verso proprio per spezzare quella cadenza che potrebbe trasformare le poesie del Pasquale in filastrocche e tu cielo dall'alto dei mondi sereni infinito immortale o d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male lo inondi è un'esortazione ma è un'esortazione di un fatto che già c'è che è interpretato dal Pascoli e a cui Pascoli dà diciamo in un certo senso la sua approvazione inondalo non è che il cielo obbedisce al poeta il poeta cerca di interpretare un fatto con gli occhi di poeta con gli occhi di mago e dice bene che sia così o cielo inonda con il tuo pianto questo atomo opaco del male la metafora questo atomo questa terra che però anche lì attenzione è una metafora va bene atomo sta per terra ma terra a sua volta è una metonimia sta per uomini il contenitore al posto del contenuto d'un pianto di stelle lo inondi lo inondi d'un pianto di stelle abbiamo un'anastrofe ricordiamoci che le anastrofe hanno delle funzioni hanno delle funzioni a volte metriche altre volte vogliono mettere in evidenza ciò che nella costruzione logica dovrebbe venire dopo il pianto di stelle un pianto di stelle evidentemente anche qui è una metafora è quello che Pasquale vuole mettere al primo posto un pianto di stelle le stelle che cadono come se piangessero quindi vedete una serie di metafore che si susseguono e la antitesi la contrapposizione tra questo atomo opaco del male che è la nostra terra e il cielo infinito immortale nei mondi sereni